informano che i caduti al cosmogromo presidiano con cura il vecchio osservatorio celeste tutti ragazzi eccoci con il secondo episodio vi lascio al filmato è a posto il filmato non parla più? posto bella ragazzi eccoci con il secondo episodio del let's play world true, plague true come cavolo si pronuncia della storia di destiny siamo pronti con il secondo episodio e andiamo cazzo ha detto? va bene non ho capito un cazzo andiamo c'è già un vandalo le murt yes partiamo subito con il botto obiettivo qual'era? le cupole aspetta scopri che cazzo ha detto non ho capito andiamo dare il bagaglio? yes andiamo super rapidi dove devo andare? mamma mia mark marquez rossi siamo in un let's play di moto futuristiche se ne va? guarda chi pieghe è l'osservatorio celeste c'è anche altra gente comunque ho visto quindi non siamo da soli ecco taglia il traguardo eccolo il traguardo rega vediamo oh ma cazzo ci sono i nemici qua che cazzo sto facendo? io andavo tranquillo è esploso bastardo vado un po' di fucile a pompa voglio usare un po' il fucile a pompa il fucile a pompea vediamo su chi posso spararlo questa è una delle vecchie stazioni satellitari dell'osservatorio celeste è collegata alle colonie lunari se mi aprite mi fate un favore e aprila? devo evocarlo per aprire una porta ma porca puttaine guarda che mi lancio il coltello i caduti non volevano che nessuno visto come si aprono le porte un bagarozzo che spara sputi nel muro che figata si è accesa anche la torcia del joystick rilevo movimento e la cosa non mi piace per niente rilevo movimento dove? oh sta musichina mi sta facendo incasso oh porca puttana oh porca puttana un albeare muori tutto in testa headshot bitches e spostati pagliaccio dammi un po' di munizioni mamma mia muori muori è partita anche la musica figa sentite la musichetta se vedi qualcosa che fluttua nell'aria distruggila porca troia muori muori ora mi incazzo mamma mamma non prendo nessuno la magliarda è qui chi è la magliarda la magliala è qua c'è la magliala chi è la magliala e muori ah è quello lì ah è quello lì astardo vieni qua di un po' il fucile a pompa quanto leva merda ci sono gli schiavi mamma mia è lentissimo a caricare però headshot si morita morita ruota con me state attenti merda che cazzone stavo prendendo fuoco comunque voglio mettermi il cecchino dopo oh è rotto il cazzo devi morire adesso li vado a prendere di prepotenza voglio vedere di prepotenza con aggressività se ne va se ne va cristorres se ne va merda sto per morire torniamo in drio torniamo in drio vada oh devi schioppare non vuoi capire che devi schioppare ma chi è che spara ancora sto qua è vero è morto finita anche questa missione ragazzi ci becchiamo alla prossima che sarà la terza vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale bella a tutti